Vista la sempre crescente richiesta di uomini che si rivolgono ad approcciola.it per la parte di corsi al vivo e per la parte di consulenza online, stiamo ricercando dei nuovi coach da inserire all'interno del nostro team. Adesso andiamo a vedere quali sono i requisiti. Ora, in realtà cerchiamo non soltanto un coach, quindi anche più di uno, e cerchiamo più che altro per la parte di percorsi di consulenza online, quindi non troppo per quanto riguarda la parte di corsi al vivo, quindi perché di solito per la parte di corsi al vivo è richiesto di solito vivere o a Milano o a Roma, quindi sicuramente se vivi anche in questa città possiamo anche valutarti come coach per quanto riguarda anche la parte di corsi al vivo, però se non vivi a Milano o a Roma, ma comunque i requisiti che andiamo a vedere adesso può essere comunque considerato come coach per quanto riguarda la parte di consulenza online, quindi per gestire la parte di consulenza online. Quindi vediamo quali sono i requisiti. Ah, e chi entra a parte i requisiti è soltanto una fase 1, quindi poi ci sono altre fasi successive, non è che avendo questi requisiti automaticamente allora diventi coach ufficiale, se no grazie al cazzo. Quindi, allora, primo requisito, essere già studente di approcciala.it, quindi se sei una persona che non ha mai acquistato nessun nostro corso, nessuna nostra consulenza, niente, non è possibile, quindi puoi già chiudere questo video. Poi in realtà se comunque conosci persone che hanno questi requisiti puoi inviare il video. Se conosci qualcuno che ha questi requisiti, quindi, e soprattutto il nostro studente, che ha almeno il video corso dall'approccio alla camera da letto. Quindi, qual è il corso principale che abbiamo, che è quello che poi dovrai insegnare precisamente alle persone, quindi tutto quanto quello che riguarda dall'approccio fino al sesso. Poi, chiaramente abbiamo tante altre cose, però, quello che è, diciamo, l'abilità principale di un coach in approcciala.it per insegnare la parte dall'approccio fino al sesso. E quello è, lo si impara tramite il corso dell'approccio alla camera da letto. Quindi, se non hai quel corso, non sei adatto. Se hai già fatto anche dei corsi al vivo con noi, sicuramente sei più avvantaggiato. Quindi, se ti abbiamo conosciuto al vivo, sicuramente parti avvantaggiato, però non è necessario aver fatto un corso al vivo con noi, anche se sarebbe un punto in più a favore. Per quanto riguarda il lato corsi al vivo, che, ripeto, non è quello che stiamo cercando principalmente adesso, stiamo ricercando più che altro coach per la gestione delle consulenze online, però, se sei interessato anche al discorso dei corsi al vivo, come ho detto, è meglio che tu sia già o a Milano o a Roma, o comunque nei dintorni, perché i corsi al vivo si svolgono in queste due città, fondamentalmente. Quindi, un altro dei requisiti è capacità di pensare, di sapersi organizzare, di essere autonomi, quella non so come spiegarla. Se sai che sei una persona disorganizzata, che si dimentica le cose, che è sempre in ritardo, evita. Poi, altro requisito è l'avere tempo. Quindi, ora, sicuramente è una cosa che si può iniziare part-time, ma nel lungo termine non cerchiamo persone che lavorino in approccio al punto.it a perditempo, quando hanno tempo. Quindi, se inizialmente hai poco tempo, ci può anche stare, anche perché dovremo inizialmente testarti e vedere se sei adatto. E quindi ci sta anche che tu abbia, magari, anche un altro lavoro in parallelo. Nella fase, poi, di lungo termine, servirà, diciamo, una presenza full-time. Quindi, questo, in modo che lo sai già in anticipo. E full-time non vuol dire che sei 500 ore al giorno, 14 ore al giorno. Quindi, full-time, che, cioè, se uno ti iscrive, se ti iscriviamo, che, non so, non possiamo ricevere una risposta due giorni dopo. Quindi, cos'è, semplicemente un esempio. Poi, ecco, un altro requisito molto importante. Siccome in approccio al punto.it facciamo ottenere risultati migliori in Italia per quanto riguarda il discorso di approccio al vivo, serve cliente e competenza sugli approcci al vivo. Quindi, se non puoi dimostrare tuoi risultati in termini di ragazze portate a letto, da approcci dal vivo, non sei adatto. Ora, come puoi dimostrarci dei risultati? Capisco che non tutti quanti abbiano foto in momenti di intimità a letto con ragazze, come magari le foto che mettiamo adesso qua in sovraimpressione. Se hai questo tipo di foto per dimostrare i tuoi risultati in termini di ragazze che ti sei portato a letto, sicuramente meglio. Mi rendo conto che non tutti quanti, anche chi ha risultati, mi rendo conto che non per forza uno si metta magari a farsi delle foto in casa con le ragazze per dimostrare i risultati. Però, ah, non ci servono delle dimostrazioni di risultati, quindi possono essere foto di questo tipo, che stai vedendo a schermo. Possono essere anche foto di te insieme a ragazze, però chiaramente poi lì in fase di colloquio dovremo capire un attimo se effettivamente hai risultati o no. Quindi poi dovremo, nel momento in cui non puoi provvedere dimostrazioni di risultati, comunque puoi lo stesso candidarti. E chiaramente poi in fase di colloquio dovremo capire un attimo meglio se effettivamente hai i risultati che sono necessari per fare il coach. Quindi è inutile studiare i numeri. Una volta il minimo requisito che mettevamo per fare il coach è essersi portato almeno 10 ragazze a letto da approccio al vivo, dopo essersi formato dai nostri corsi. Recentemente l'ho abbassato a 5 ragazze a portare a letto, che comunque garantiva lo stesso, abbastanza qualità di base nel coach che si andava a trovare. Quindi se non ti sei portato a letto almeno 5 ragazze da approccio al vivo dopo esserti formato dai nostri corsi, in certi casi si potrebbe anche fare delle eccezioni se magari sei nel divenire, del diventare esperto con le donne, ti sei portato a letto già magari 1, 2, 3 ragazze e stai andando piuttosto bene, ti stai iniziando a portare a letto diverse ragazze, potremmo comunque valutarti lo stesso. Quindi se però sei totalmente a zero, sai soltanto prendere il numero di telefono, sai soltanto approcciare, sai soltanto ottenere appuntamenti, non sei adatto. Quindi se hai questi requisiti puoi candidarti, che candidarsi non vuol dire che diventi coach, vuol dire che poi c'è una fase successiva di selezione e di messa in prova, quindi puoi candidarti scrivendoci su WhatsApp al numero che vedi qua in sovraimpressione a schermo, probabilmente ci sarà il link per scriverci su WhatsApp direttamente nella descrizione del video, o se no anche via email a info-appracciola.it, ci sarà l'email scritta anche qua a schermo. Se non hai questi requisiti, ma comunque conosci qualcuno che può avere questi requisiti, allora inviagli questo video.